Siamo con il vicepresidente dell'Epomeo, Fernando Iacono. Fernando, due acquisti importanti per l'Epomeo, André Augusto Gosens e René Suárez Ortega. André si è presentato prima, 18 anni, prima esperienza in Italia, mentre Ortega ha un curriculum di tutto rispetto. Dal 2019 a oggi ti aspettavi un'evoluzione così importante di questa società? Come ho detto anche nella presentazione prima, noi siamo partiti come realtà sul territorio per lo sviluppo e la crescita dei nostri giovani. C'eravamo prefissati quell'obiettivo, lo stiamo facendo, lo stiamo facendo bene e continuiamo su questa strada. Ci stiamo confrontando già con delle società all'esterno di Ischia e arrivare a questo punto la speranza c'era sempre, il pensiero pure. La realtà è stata diversa, la realtà è stata che ci hanno bloccato due anni il Covid e poi l'anno scorso la società ha fatto un cambio di passo e ci siamo messi in testa di fare qualcosa di più per quanto riguarda la prima squadra ma anche l'Under 17 ha fatto un bellissimo cambio l'anno scorso arrivando a giocarsi la finale e arrivare a questo punto è stato lo sforzo di tutti noi, di tutta la società e abbiamo trovato sulla nostra strada tanti giocatori di valore che hanno sposato la nostra causa e ci hanno permesso l'anno scorso di arrivare finalmente in C2 con tanta sofferenza, con tanti problemi però oggi goderci questo secondo posto temporaneo è un gran risultato. La domanda te la devo fare. Nel primo al secondo posto appari punti con altre due squadre nel caso c'era una posizione inferiore e l'Epomeo investiva lo stesso su questi due giocatori di altissimo livello. Ti rispondo come ho già detto prima nella presentazione a bocce ferme nella pausa natalizia ci siamo guardati intorno abbiamo detto ragazzi ormai la salvezza è un dato acquisito ci mancavano pochi punti matematici per la salvezza, oggi lo siamo e quindi insieme agli altri ci siamo confrontati e abbiamo detto abbiamo la possibilità di aumentare il valore di questo parco giocatori aumentarlo vuol dire andarci a confrontare con le prime squadre alla pari senza avere paura, infatti veniamo da quattro risultati utili positivi anche senza René e prima parlavo col capitano purtroppo abbiamo da rimproverarci di aver lasciato quattro cinque punti per strada per delle partite andata male oppure approcciato in un modo diverso perché sono venuti in meno alcuni ragazzi che non hanno voluto condividere questa esperienza questa avventura se l'avremmo fatta non lo so forse forse no forse sì non ti so rispondere L'obiettivo stagionale dell'Epomeo a inizio anno era salvarsi l'Epomeo si salva alla fine del giro di andata ora arriva Ortega adesso qual è il vero obiettivo di quest'anno? La Siccella la Siccella è di andarci a giocare alla pari con le altre quattro squadre che stanno insieme a noi tra il secondo e il terzo posto cioè perché la Fenix è partita ha sprombattuto sta facendo un campionato a parte ne ha persa solo una e quindi ormai è quasi irraggiungibile a meno che una debacle della squadra e della società la portasse a perdere tre quattro partite una dietro l'altro e quindi ce la giochiamo fino alla fine il secondo posto è un grandissimo obiettivo e poi si vedrà l'innesto di Andrè e Renè possono solo dare altra linfa e farci sognare ancora un po' Cosa pensi del gruppo squadra? Allora abbiamo un gruppo meraviglioso un gruppo che questo gruppo di prima squadra sto parlando perché poi i ragazzi sono tutta la scuola calcio fino all'Under-19 sono cresciuti in un modo stupendo sotto la cura attenta della nostra società non facendoci mancare nulla e parlando di questo gruppo di prima squadra visto che mi hai chiesto cosa ci aspettiamo questo è un gruppo che è nato un anno e mezzo fa con l'arrivo di tanti nuovi giocatori talentuosi, validi che hanno completato una rosa già di ragazzi del posto che c'erano si sono messi a lavorare si sono messi a disposizione di Giorgio Vuoso e posso dire che oggi i dieci che sono rimasti della vecchia guardia quindi del campionato scorso sono veramente meravigliosi meravigliosi Sebastiano purtroppo è venuto meno per un grave infortunio ma tutto il resto dal primo all'ultimo non ce n'è uno più bravo o meno bravo sono tutti sulla stessa linea ci stanno dando tante soddisfazioni e ripeto mi dispiace per chi non ha voluto continuare questo progetto ci ha lasciato nel momento peggiore della situazione perché attraversavamo un momento no con non tanti risultati positivi ma veramente è incomiabile l'impegno che hanno messo questi dieci ragazzi per farci arrivare oggi fino al secondo posto in un campionato abbastanza difficile grazie grazie a te grazie a te